Il direttore sportivo della Provercelli Varini, anche Gianfranco Accio, su Niccolò Barella, qual è la vostra sensazione? Sembrava, non dico quasi fatto, l'approdo del giocatore del Cagliari all'Inter a giugno, parliamo del mercato estivo, a giugno, si è inserito il Napoli perché Ancelotti piace, quindi sembrava a un certo punto broccio di ferro Napoli-Inter, adesso c'è il Chelsea. Fortissimo, con Serri che dice, mi serve un centrocampista. Ma già per gennaio, eh? Ma già per gennaio, secondo me, poi il Cagliari deve anche fare una scelta, deve anche salvarsi, eh? Quindi, io prima di dare via giocatori che ti servono per ottenere il tuo risultato, andrei anche piano. Poi dopo è evidente che ci sono dei valori di mercato talmente alti, lì che diventa anche difficile. Secondo me è un problema, uno, di valori di mercato, perché è una cosa importantissima. Ma lo puoi anche vendere e tenere lì fino a fine campionata. Dipende, però, in questo caso, per esempio, le parole del Chelsea, se lo vuole subito è un altro discorso. E allora, a questo punto, probabilmente la società o il Napoli o l'Inter dovrebbero fare un'operazione di questo tipo. Io, poi dopo vale anche magari un pochino il parere del calciatore, che magari può essere che ha la gente che si mette d'accordo con una delle due società e quindi poi bisogna passare da lì, perché non c'è un'alternativa, perché, che che se ne dica, gli agenti sono, in questo momento, nel calcio, sono una componente determinante. Perché se anche il giocatore, scusa... No, sto pensando alla gente che è Beltrami, l'agente di... Beltrami dipende... Di Barella... No, adesso è un amico, Beltrami, ma... Lo stesso di Nangolano. Anche lui che tipo di rapporti ha, magari, meglio con l'Inter rispetto al Napoli. Con l'Inter sicuramente sono buoni, con l'Inter sono buoni, ha portato Nangolani. Con l'Inter sono buoni, con Nangolani, appunto, a volte valgono anche queste cose. Poi, però, magari, il Napoli fa gli... Cioè, non lo so, a quelli dei lì è dura la storia. È difficile, è difficile. Da direttore sportivo, lo so che con le sensazioni non si va avanti, perché poi servono i fatti, serve la concretezza, il mercato di sensazioni, è un mercato, è un fantamercato, in sostanza. Però lei, da direttore sportivo... Beh, ha una sensazione che vada all'Inter. Inter a giugno. Che sono anche anni, ormai, due anni che... Un anno, un anno e mezzo che gli corre dietro, quindi voglio dire... Ma poi Giulini è la... Giulini è la... Giulini è la... Ok. Il santo giudicente è sempre la... Il vicepresidente... Varini, due punti, Barella per me, andrà all'Inter. Gianfranco Accio, due punti, Barella per me, andrà... Adesso mi devi fare un'altra squadra. Un pochettino più articolato, vorrei anch'io spendere due parole. Devi. In questo senso, si parla anche, ovviamente, di mercato, ma di suggestioni, chiaramente, in questo periodo. Ma c'è una novità, a quanto pare, che ho sentito a leggere da qualche amico, si potrebbe inserire una trattativa, non so se questo voi siete a conoscenza, un certo Gabigol, perché so che è felicissimo, ho sentito, ho parlato di suggestioni, ho parlato di Gabigol, dato che è dell'Inter. Ma avviso il tuo amico che rimane... Che rimane... Vabbè, comunque, sto parlando di suggestioni, quindi di fantasie. E quindi, perché? Perché l'Inter, ovviamente, è molto gradita a Barella, no? Quindi, sono d'accordo, probabilmente arriverà poi all'Inter. Tutto qua, questo è quello che volevo dire, questa novità, questa... Che è stata subito bocciata dal Becca, ma che però... Che non spendi neanche i soldi dall'aereo, perché... Ma poi, magari su Gabigol, andiamo da Gianluigi Londra... Ecco, bravo. Gianluigi, aggiornami su Gabigol. Ma su Gabigol, in realtà, ci sono delle prospettive che riguardano anche l'Inghilterra, anche il nostro campionato, però il problema per l'Inghilterra è che al momento non avrebbe i requisiti per ottenere il permesso di lavoro in Premier League, visto che comunque le norme sono piuttosto severe, lui non ha giocato praticamente mai con la nazionale di categoria nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, dopo le Olimpiadi, sostanzialmente. Per cui, si parla di una sua permanenza nel campionato brasiliano, l'Inter sicuramente vorrebbe darlo a qualche altra squadra, non ha intenzione di concedere un'altra chance, nonostante sia questo quello che lui ha richiesto. Su Barella, io sono d'accordo rispetto a quanto stiamo descrivendo in studio, di fatto abbiamo parlato a fine agosto di quel summit, anzi, nella prima metà di agosto di quel summit che vi fu a Monte Carlo tra Ausilio e Beltrami, che ha un po' indirizzato il futuro di Barella verso l'Inter, va detto che comunque l'interessamento piuttosto concreto c'è stato da parte del Napoli prima e del Chelsea poi, sono cifre importanti che potrebbero scompaginare le carte, però al momento mi sento ancora di individuare l'Inter come favorita. Però bisogna stare attenti con questi giovani, perché se tu li chiudi adesso riesci a gestirli, poi gli dici tipo Brescia, Cagliari, ok, rimangono lì e intanto ti porti avanti, correggimi se sbaglio, direttore che tu sei. No, no, giusto. Però il problema è che poi ti arriva una società come il Chelsea, che c'è di stare, io ho bisogno di un centrocampista, ok, vai a Ruotalia, ti arriva un carico da 50 milioni di euro, cosa fai? Esatto. Quindi è per quello che io spingo, se tu sei convinto devi chiudervi subito questi giocatori. Ma io penso che... Poi uno come Barella secondo me avrebbe fatto comodo a qualsiasi squadra, anche alla Super Juventus, che poi prenderà Ramsey a 0 a giugno, però secondo me la Roma doveva fare secondo me un'operazione di mercato, direttore. Mi correga se sbaglio. Ma non lo so. Esce Nainggolan, esce Strohmann, devi prendere un giocatore. Un po' un secondo, sai che io sento, sai che dico vanno a vedere Barrella e Tonali, ma c'è bisogno di andare a vedere. Sono d'accordo, bravo Emanis, bravo. Vado a vedere Barrella, soprattutto Tonali, magari capisco Tonali, Brescia, Serie B, le spose di Maris. No, 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 ma non devi... Ma ascolta, io Tonali ho giocato contro. No, lo so. Lasciam stare. Cioè poi i valori, poi ci può sbagliare, eh? Si può sbagliare, certo. Tonali è 99 mi pare, no? Sì. Sbaglio, 99. Allora, la personalità che ha Tonali io non l'ho mai vista. Cioè, non l'ho mai vista. E quando vedi un giocatore del genere che ha giocato con noi, erano le prime partite che facevo lo scorso anno quando abbiamo giocato. È un 2000 comunque Tonali. 2000, 2000. 2000, è un millennio, 2000. 2000, allora, io quella partita lì, guardavo sto ragazzino e dicevo, no, porca miseria, non è possibile che sia un 2000. Perché comandava lui, ma non c'erano 22 giocatori. Nel ruolo più difficile, più importante. Finito l'argomento, finito l'argomento. Poi magari non sai, è un giocatore, secondo me, tutti lo parlano con uno da Pirlo, se no è un giocatore completamente diverso. E' un po' diverso, però è un altro discorso. Sono una fattinatura forse. Sì, basta, basta, basta. Magari gli assomigli in faccia, però è un giocatore diverso, il contrasto. Impressionante, quindi cosa mandi a vedere? Cioè, cosa diamo con Tonali e Barrella? Li devi prendere, punto, chiacchia da zero. Chi lo prende, Tonali, direttore? Eh, beh, io non so. Guarda, non lo so, secondo me ci stanno addosso tutti. Tutti. Anche lì, siccome c'è Cellino dietro, è lì, secondo me, bisogna che tutti aprano il cordone della borsa parecchio, quello che le apre di più di tutti probabilmente è Sardinica. Non il cuore, perché Cellino ha detto da rotto nani che dimostra più amore. Sì, ma lui dice che usa anche il cuore, sarà anche così, ma io non lo metto niente. Soldi. Secondo me, poi c'è soldi, calciatori, poi adesso dipende dal Brescia, perché magari Brescia sta facendo un grande campionato, se va in Serie A probabilmente ci sono anche calciatori che possono interessare il Brescia per la Serie A nuova. Ovvio, ovvio. Quindi è tutto un discorso. Tonali secondo me è un po' più complessa la cosa, è meno, cioè, Barrella secondo me c'è una società o due che sono molto avanti, su Tonali secondo me molto avanti non lo so. Hai detto una parola magica Alfredo, che ci apre le porte per la domanda successiva, ed è contratti. I contratti vanno prolungati, non lo prolungherà il Bayern Monaco ad Arjen Robben, che oggi stuzzicato chiaramente da alcuni giornalisti rispetto a una possibile opportunità di vestire la maglia dell'Inter, visto che si è vociferato anche di questo, non ha parlato dell'Inter in particolare, ma ha parlato del suo futuro dicendo che è felice di avere comunque delle offerte di rilievo. E i nostri amici da casa vogliono sapere se ci sono delle possibilità effettive per l'Inter, oppure se si tratta più che altro di una suggestione. Robben dici? Robben, sì. Ma io Robben, sono sincero, anche con mezza gamba lo prenderei sempre, perché la sua esperienza, il suo carisma, la sua classe pura, non avrà le accelerazioni di una volta, ma sicuramente gli è rimasto il 50-60%, lui ha detto che ci sono delle proste, sicuramente qualche suggestione e qualche suggestiva proposta dall'Inter gli sarà arrivata, sceglierà con calma, ma io con uno come Robben, anche per fargli fare, parte e fa un tempo, entra e fa mezzo tempo, entra e fa tutta la partita, perché poi comunque fisicamente lui sta bene, ha una classe infinita, sarà l'ultimo suo contratto, poi penso che andrà da un'altra parte del mondo. L'ha detto lui, quindi ci saranno 3-4 squadre interessate alla sua... Parleremo più tardi anche di un discorso che abbiamo toccato la scorsa estate e che abbiamo toccato anche nei primi giorni di gennaio, mi riferisco a Nandes del Boca, che è un concreto obiettivo del Cagliari, ho l'impressione che se il Cagliari dovesse, arrivo altre conferme dall'Argentina, dovesse ricevere la cascata di milioni adesso per Barella, li andrebbe a riversare tutti su questo ragazzo che inizialmente doveva essere con l'Inter, poi adesso non si capisce, Giulini si è mosso in prima persona, il mercato del Cagliari è un mercato ondivago, può succedere di tutti, indipendentemente dal discorso Birsen, dal discorso Mancoso, che credo in qualche modo definiranno nei prossimi giorni. Possiamo però aggiungere una cosa a questa tua considerazione Alfredo, perché se tu parli di cascata di milioni al Cagliari adesso, in questo caso, qualora si dovesse verificare, si escluderebbe la pista Inter, no? Nel senso che l'Inter se prende Barella e è favorita per farlo, lo prenderebbe a giugno, non certo adesso. Sì, infatti il discorso sarebbe per gennaio, perché tutti danno per scontato che Barella resterà a gennaio. Io ti dico la verità, una mano sul fuoco ce la metto, l'altra mezza anche, un altro quarto anche, ma due mani sul fuoco non ci arrivo, perché è una situazione che a gennaio funziona sempre così, se arriva qualcuno con i soldi pesanti, tu hai il dovere di, se qualcuno ti soddisfa con quel tipo di offerta, tu hai anche il dovere di prendere considerazione, di valutarla, perché non è che ti arrivano tutti i giorni offerte di questo tipo. No, certo, assolutamente. Poi Sarvi è stato esplicito nelle sue esternazioni. L'uomo del giorno, e andiamo allora da Nino Minoliti, della Gazzetta dello Sport. Bella operazione, dai. Sì, senz'altro, anche perché Godin, secondo me, porta due cose. La prima, la sua classe, la sua bravura, la sua esperienza, che sono fuori discussione. E poi, secondo me, aggiunge all'Inter una cosa che, secondo me, è ancora, come possiamo dire, se non proprio deficitaria, però non in misura sufficiente, che è la caratura internazionale, diciamo, della squadra nel suo complesso. E guarda che lo si è notato nell'eliminazione in Champions League, cioè si è visto che è una squadra che in certi momenti aveva bisogno di una maggiore caratura internazionale. E lui la porta, lui è un giocatore che chiaramente, come dicono in Spagna, un internazionale, cioè un giocatore che ha una dimensione veramente europea. L'Inter blocca Godin, il Milan prende la vietà, Alfredo vai, scusa, e poi facciamo la domanda a Stellini. Vai, vai, vai. No, aggiungo che prendi, aspettando la firma, prenderesti un guerriero, un leader, un carismatico, un condottiero, uno che il go non li fa fare e li fa. Uno che ci è rimasto male perché l'estate scorsa aveva la Juve, aveva lo United, gli avevano detto ti facciamo un contratto superiore a un anno e poi non hanno mantenuto questa promessa. Vedremo adesso i passaggi formali che sono sempre molto importanti. Non hanno mantenuto questa promessa e gli proporrebbero un anno. Non credo che l'Inter farebbe, non credo, farebbe due anni più uno, credo che farà due anni, probabilmente due anni secchi, aspettando i prossimi passaggi. Ma se io immagino una difesa a tre, Godin, De Vrij, Skriniar, immagino tanta roba. E tutti immaginerebbero tanta roba perché avresti proprio la sintesi di tutto, l'esperienza, il carisma, l'esplosività di Skriniar. La leadership di De Vrij che sta crescendo in modo esponenziale sarebbe uno dei reparti più importanti d'Europa in quel ruolo. Detto ciò, che è successo? Cioè sarebbe una fascia pubblicitaria? No, volevo soltanto, visto che si parla molto di parametri zero, lo so che durante la fascia pubblicitaria sarei squalificato, domani mi arriva una mail. Bravo. Ma il Porto ha formulato l'ultima proposta a Hector Herrera da 4 milioni a stagione. Lui c'è una proposta superiore da un club importantissimo dalla Spagna, molti indizi portano all'Atletico Madrid, e due proposte dall'Inghilterra. Lui ci è rimasto male perché un mese e mezzo fa il presidente del Porto ha detto non rinnovo il contratto Herrera perché mi ha chiesto 6 milioni, che effettivamente è la cifra che lui vorrebbe, ma il fatto che sia stata sbandierata questa cifra ha rotto l'etrativo. Ora il Porto mantiene una piccola speranza. Ne parliamo da novembre di questa storia Inter. L'Inter in questo momento è in una posizione abbastanza privilegiata. È possibile che ci sia un incontro nei prossimi giorni, e il culto della ricerca del parametro zero, il profilo di Hector Herrera va tenuto in grossa considerazione. Bilanciamo un attimo facendo un passo indietro. Su Barella, secondo Serafini alla fine la spunterà l'Inter, il Napoli o il Chelsea? Luca, Barella, passo indietro. Il Chelsea. Se lo vuole il Chelsea, lo prende il Chelsea. Perché Barella tra l'altro è un giocatore che ha fatto anche la gavetta, è un giocatore che a Como ha giocato, e io ho commesso un errore prima, parlando di Barella, ho messo che era compagno di squadra di Giovanni Lacamera a Como. Si vedeva, c'erano un po' di giocatori interessanti. Ma guarda, io arrivai a gennaio, quando vedi lui e Bessa, subito pensavo, questi qua non c'entrano niente. Perché nonostante la giovane età, comunque lo vedi quando il giocatore è pronto, quando il giocatore... A D'Alfice, penso quell'anno. Sì, sì. Nicolò è una persona che... Io poi tra l'altro ci sono affezionato e lo seguo, è una persona... Quando uno dice un giocatore umile, nel senso un giocatore che sa quello che vuole fare, sa quello che vuole ottenere, non è un ragazzo che grilli per la testa, è una persona che lavora, si allena, vive per il calcio. Io credo fortemente che... che lui comunque... se può scegliere, rimane in Italia, quindi l'Inter lo è davvantaggiato, però sono d'accordo che comunque... Ma era già così forte ai tempi del Como? Si era forte. In allenamento? Perché oltre la persona... Perché aveva proprio un ritmo diverso, aveva una quantità, aveva una... una qualità diversa. Sai, i giocatori li vedi nel movimento della palla, nel movimento... anche quando non hanno la palla. E nonostante la sua giovane età, lui era un giocatore già affermato e comunque era il primo anno che faceva essere B. Quindi quando un giocatore ha questa impronta qua, soprattutto caratteriale, è normale che poi, comunque, se dovessi andare in una squadra come il Chelsea, io penso che lui possa diventare veramente uno dei centrocampisti, in prospettiva, probabilmente i più forti. Ricorda chi era l'allenatore di quel Como? Inizialmente era festa, poi ci fu Cuochi. Chi? Cuochi. Defano Cuochi, no? Ex-Modern. Sì, è stato finale del Como? Parlo. Avevamo grandi difficoltà, ieri arrivai avevamo 11 punti, poi la società aveva dei problemi, poi fallì col fatto l'anno dopo essendo. Con Barella in campo e con Bessa. Posso chiedergli una... Certo, Nino, puoi fare quello che vuoi qua. Secondo te, l'evoluzione di Barella, perché chi lo accosta a Pirlo, chi dice che assomiglia più a Verratti, che non è come Pirlo, è un giocatore diverso, tu come... No, secondo me non è nessuno e due. E a chi lo... Per dare un'idea di che tipo di centrocampista... In piccolo lui è un cantè, cioè nel senso è uno che recupera tanti palloni, tra l'altro leggevo i numeri, penso che sia uno dei giocatori che ha più... Che ha recuperato più palloni, inserita, ha vinto più contrasti, però ha anche una grande qualità, quindi ha il tiro da fuori, ha inserimento. Un paio di volte l'ho visto che l'hanno... che ha giocato tanti la difesa. È normale, lo adatti, perché quando comunque hai bisogno lo adatti. È un po' nervoso. Sì, però l'ho visto migliorato. È vero, è un po' nervosetto, ha ancora quel modo di protestare, però è uno che dà tutto. E quando uno dà tutto... Sì, però... Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Iscriviti al nostro canale